I vigili del fuoco sono intervenuti in un campo agricolo nelle vicinanze di via Cadolfina-Rosà per l'incendio di un escavatore. Un operaio era intento a preparare una canaletta di scolo quando ha notato il fumo e le fiamme uscire dalla batteria. I pompieri arrivati da Bassano hanno spento le fiamme dell'escavatore gravemente danneggiato. Le cause dell'incendio sono di probabile natura elettrica e al vaglio della squadra sul posto.